Domenica 24 settembre, una bella giornata autunnale. Voi non potete capire il caldo pazzesco che c'è stato qui in Sicilia. Oggi ha un po' piovuto, fuori è molto nuvoloso come piace a me. E io questa mattina ho ordinato casa mia. Adesso voglio realizzare un video che vado a montare insieme ad altri video che ho fatto la scorsa settimana. Nel video nei quali mi preparavo un po' così all'autunno. Che cosa devo fare oggi? Devo definitivamente togliere le ultime tracce della primavera-estate. E quindi ad esempio inizierò togliendo queste graziose candele. La macca è molto buona. Queste candele ce l'ho da tantissimi anni, sono perfette, non le ho mai accese. Le vado a cambiare con candele che possiedo e che sono più in tema autunnale. E questo è il lavoretto finale. Ho lavato ovviamente il portacandele, che ho acquistato, credo, 15-16 anni fa all'IKEA. Queste candele sono graziose, non belle come quelle precedenti che appartengono a Enzo De Gasperi. Che fa, secondo me, le più belle candele in Italia. Queste sono della Lidl, ho pagato, è davvero una sciocchezza, 3-4 anni fa. Sono intatte, le conservo bene. Io ho grande cura delle mie cose. E questo credo che sia anche un'altra possibilità di risparmiare. Quella di conservare talmente bene le tue cose che non hai bisogno di riacquistarle spesso. Sempre di Enzo De Gasperi, ad esempio, appartengono queste bellissime candele a forma di uccellino. Graziosissime. Anche questi sono decori stagionali che adesso andrò a cambiare. E vi voglio mostrare questo scatolone. Uno di quei famigerati scatoloni che contengono cose. Uno scatolone che ho acquistato per contenere cose. Questo però ha una sua funzione, che è quella di contenere alcuni decori stagionali. Per l'esattezza, qui abbiamo quelli invernali. Che vedrete poi, prima o poi. Come ad esempio questo, un graziosissimo. E che poi andremo a mettere al posto di quelli che vado ad allestire oggi. E poi abbiamo anche qualcosa di natalizio. Queste sono le candele che andranno a sostituire in periodo di Natale le foglie che ho appena messo. E qui abbiamo i nostri arredi. Arredi proprio in questa bustina. Sono contenuti i nostri arredi. I nostri decori autunnali. Questa candela l'avevo dimenticata. Vediamo se possiamo invece usarla. Sì, dai. Perché? Potrei anche usarla per adesso. Ora vediamo. Ok. Andiamo dunque a togliere queste decorazioni graziosissime. Anche queste ce le ho davvero da un po' di anni. Niente. Quando le cose sono belle le ho pagate. Quando le cose sono belle e vengono trattate con cura. Possono durare davvero un'infinità. Operazione decori completata. Allora, vi disovo subito che a me non piacciono affatto queste decorazioni. Sono anche un po' pratiche. E ovviamente anche a fine del minimalismo e del semplificarsi la vita è sempre sbagliato. Insomma, complicarsi la vita. Queste decorazioni provengono dal Lidl. Anche queste hanno almeno 4 anni. Credo veramente le ho acquistate nel 2018. Perché le metto allora? Perché non ho nessuna valida alternativa. Non ho voglia di acquistare altre alternative. E poi perché ritengo che è un po' come quando magari hai un'unica borsa molto molto bella. E poi magari sei vestita con capi della fast fashion che vanno evitati. O comunque molto basici. Tutti noteranno quella bellissima borsa. Quindi, poiché credo che l'insieme sia gradevole. Allora questi decori di bassissima qualità si fanno perdonare. Adesso però concentriamoci su questo vaso. Grazioso, l'ho fatto io qualche anno fa. Però, insomma, cosa sono ortenzie? Comunque non è, no, Giacinti, insomma, non è l'ideale per la stagione che sta arrivando. Mi sono all'improvviso ricordata di un vaso della Thun. Evidente, questa è un'idea che ho avuto questa mattina. Questa mattina mi sono svegliata molto presto, ho guardato le mie youtuber preferite, americane, Cadana Daisy, Daisy e soprattutto la grandissima Ashley Eaton. E mi ha dato l'idea che non devi necessariamente comprare qualcosa di autunnale. Vedi di sfruttare qualcosa che hai in casa e che ha magari quei colori tipici dell'autunno. Non mi è venuto in mente questo vaso, che merita di essere riportato alla luce. Invece vado a conservare, mettere via quello e ci rivediamo in primavera. Sono pronta a riporre questo scatolone dell'IKEA di plastica, bello robusto. Nero, l'avevo preso proprio nero perché la variante trasparente non mi piaceva. Secondo me creava confusione. Invece così il nero quasi simmetizza. Ecco, forse questo è un esempio di quei contenitori che hanno un senso. Cioè non acquistati per riporre cose che poi non riaprirai mai più. Ma è un contenitore che viene usato per poter riporre in sicurezza tutto ciò che è un po' delicato. Qua non si rompe nulla. È al riparo dalla luce solare, dalla polvere. Quindi è stato un buon acquisto in questo caso. L'errore è comprare contenitori per mettere via tutte quelle cose che sai già che non riaprirai più. Non so, ad esempio, un esempio. Doi bambini crescono e tu pretendi di conservare tutti i loro abitini di quando erano piccoli solo perché sono dei ricordi. I ricordi sono belli e sono importanti. Al limite io dico seleziona quei cavi che più ti ricordano qualcosa ma gli altri buttano. Ok, vado a mettere via questo contenitore. Adesso che però ho tirato fuori questo vaso, penso che vorrei eliminare questo portafrutta. Per me eliminare significa però riporlo e tirarlo fuori poi in primavera perché potrei invece mettere uno di questi due oggetti della Thun. Sono oggetti che in realtà ho ricevuto con dei punti presso il mio supermercato preferito qui in paese. Che vi devo dire, mi sono pentita. Risalgono a 2019, dopodiché c'è stato il Covid, quindi lungaggini varie. Nel frattempo io avevo deciso di semplificare molto la mia vita. Ormai mi ritrovo con tutta un'intera collezione di piatti, caffè, tè. Sto cercando di usare. Qui per esempio vedete le mug, le altre tre le sono in lavastoviglie. E quindi dai, tiriamole fuori al posto di questo. Forse dato che c'è già un'alzatina dell'IKEA, forse allora è meglio il piatto. Anche perché si permette di accogliere meglio frutta e verdure. Quindi salutiamo l'alzatina dell'IKEA. E diamo il benvenuto a questo piatto da portata della Thun. E che meglio si accorda con questo vaso da fiori. Vedremo poi cosa ci posso mettere dentro. Ultima cosa, non mi resta che sistemare queste candele. Non sono particolarmente autunnali nel colore, forse questa è un bellissimo prugno. Ma nel concetto. Io uso moltissimo le candele. Le mie candele preferite sono quelle delle Yankee Candles. Sono parecchio costose. Ma hanno delle profumazioni divine. Io le acquisto soprattutto, anzi, esclusivamente quando sono in saldo. E i miei saldi preferiti sono sicuramente quelli del periodo natalizio. Che mi consentono di acquistare delle candele. Magari selezionandole fra le meno o meno stagionali del periodo natalizio. Sicuramente un acquisto che farò al più presto sarà un kit da 4. O 5 euro che ho visto su Amazon. È un kit di stoppini. Perché in realtà io ho raccolto tutta una serie di candele. Però ovviamente le più belle, quelle appunto della Yankee Candles. Che mi sono rimaste nei fondi. Ne ho veramente tante. Le voglio sciogliere insieme a voi e produrre delle candele. Queste le ho acquistate ieri all'IKEA. Le candele dell'IKEA sono di qualità media. In particolare ho notato che se non ha intenzione di... Soprattutto quelle piccoline, le votive. Se non ha intenzione di usarle tutte in un giorno. Quando vai a riaccenderle, poi in realtà bruciano velocemente. Quindi poi ti resta a volte mezza candela. Candela, mezza cera all'interno della candela votiva. Queste però, acquistate 8,50 euro, sono buonissime. In realtà sono rimasto un po' delusa. Perché lo scorso anno ne avevo acquistate tre. Avevano una profumazione pazzesca. Sono all'interno della varietà di candele IKEA le migliori. Anche queste hanno un buon profumo. Ma quello era più raffinato. I colori si adattavano meglio al mio salotto. Comunque, sistemiamo all'interno di questo contenitore. Così? No, forse no. All'interno di questo contenitore di ceramica. Molto grazioso, anche esso proveniente dall'IKEA. E poi più tardi le accenderò. Credo che sia giusto cambiare anche questo bellissimo, delicatissimo strofinaccio. Acquistato soltanto a scopo decorativo. Ha dei colori che non si adattano più. Lo lavo. Forse a mano, perché davvero, davvero l'ho pagato anche parecchio. Mi sembra 19 euro. Ma è veramente bellissimo. C'è al mio paese un negozio che ha delle cose particolarmente raffinate. Non mi sono mai pentita di quello che ho comprato. Diciamo che lo vado a sostituire con questo strofinaccio grazioso, solo nei colori. Anche se poi adesso va a stridere con questo portastrofinaccio che ho fatto io moltissimi anni fa. Ma comunque, al momento non me ne viene in mente uno migliore. Quindi andiamo anche a cambiare questa parte della mia cucina. E questo è l'effetto finale delle candele che hanno dei colori che si adattano molto bene. Quello è il plaid del quale ho parlato ieri mentre mi trovavo a Maison du Monde. Ha dei colori che si adattano bene al mio salotto. Però è un po' freddo. Cioè, forse sarebbe più confortevole in inverno avere qualcosa di più pelliccioso. Non lo so. È da valutare. In realtà copre un buco che si è creato in questo divano. Questo divano è in pelle. È stato un acquisto bellissimo. Però è stato molto usato e ormai ha davvero 12 anni. I gatti poi hanno completato l'opera. Insomma. E questo è il tappeto che ieri, dicevo, ha sempre a Maison du Monde, vorrei tanto cambiare. L'avevo acquistato così all'IKEA. Ha un vantaggio. È una specie di stranissimo tessuto plasticoso per il quale vi garantisco nel momento stesso in cui lo lavi, lo appendi e si asciuga. Ecco, questo è l'unico vantaggio che ha. Però, insomma, non è un granché. Non credo di... Ah no! Un altro angoletto che voglio assolutamente rivisitare in chiave autunnale-invernale però è questo. Questi fiori hanno fatto il loro tempo. Sono vecchi, sono frustri, sono proprio rovinatissimi. E quindi ieri a l'IKEA ho acquistato un vaso rotondo, più grande. Andrò in questo negozio del quale vi parlavo. Domani o dopodomani al massimo. E quindi ho già visto delle bellissime foglie autunnali. E quindi non credo poi appunto di voler aggiungere altri decori autunnali. Quindi questo è quanto e ci vediamo quando domani acquisterò poi queste foglie e vedremo poi l'effetto finale. Grazie. Grazie a tutti.